Il mercato di riparazione è senz'altro utile, ma rischia si sa di portare scompiglio e rompere equilibri consolidati. Il discorso vale per tutte le squadre in Italia e all'estero e dunque anche per il Catania. Gli allenatori si da una parte chiedono rinforzi, dall'altra non vedono l'ora che il mercato di Geneglio si chiuda per poter lavorare in serenità e cioè senza giocatori distratti da nuovi contratti e allo stesso tempo assillati dalle telefonate dei procuratori e degli addetti ai lavori. Dicevamo non fa eccezione il Catania che ha almeno cinque giocatori in lista di partenza ma la cui destinazione è assai incerta. Da Sebastian Leto a Sergio Almiron, da Fabio Almonzon a Gino Peruzzi passando per Alexis Rolin, l'unico al momento ad avere ancora mercato. Sembra intanto saltato lo scambio di portieri con il Chievo. Bardi non è convinto del trasferimento in Serie B, al momento dunque Frison resta il portiere del Catania. In entrata invece dopo il difensore Belmonte è da ufficializzare l'ingaggio di Roberto Insigne, 21 anni da compiere, seconda punta in forza alla regina e Lega Pro, ma di proprietà del Napoli. Poi tante trattative avviate da Del Grosso a Cascione passando per Bellomo e Maniero. Quest'ultimo sarebbe un passo dalla firma con il Catania, l'affare potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore. Catania dunque da rimodulare in tutti i reparti con Marco Linn che fra cinque giorni dovrà schierare una formazione competitiva a Lanciano. molti i dubbi fra mercato e indisponibili. A proposito, ormai da tempo non si hanno notizia degli infortunati e sui possibili tempi dei loro recuperi. Tutto resta avvolto in un fitto mistero.